è partito è partito è pronti pronti hanno tolto tutto dentro spappo tutto dentro poi poi non si legge hai visto che siamo pro andiamo subito e i cigli e gli agli 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 avversari i nabbi i nabbi vai su charlie usci no? e vaffanculo nessuno mi da una mano in A eh? eh no perchè ah ci vanno tutti eh però ha ancora da via eh però intanto abbiamo B e A e C e ce n'erano due da uccidere non uno dov'è? da shockwave abbiamo i tre punti di controllo abbiamo i tre punti di controllo oh che rumore fa la smartphone che brutto che rumore di merda picchia una merdaccia bravo merdaccia 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 tutt'oro ma ogni archillo è un vermazzo per ogni archillo ogni archillo vermazzo ora ragazzi a cattone visto che ci riprendi andiamo a fondo prendiamo tutti i tagli facciamo un baletto va bene dopo lo facciamo dai oh ma dov'è a cattone dove sei? nooo dove sei? voglio uscire per televisione dove sei a cattone? io l'ho fatta ma una tirata a uno che stava frizzato all'inizio cattone eh 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 oh me devi trovare bello non lo so dove stai uno qui mi sta sparando guarda il puntino rosso ma dove sei? succidi dove sei? so succidi si bravo so succidi poi ce n'è uno sopra e che arriva con le hemlock c'è manco gli spectre nemici sopravvivono nooo non ho anche visto questo cazzo di granata questo forse ci riuscirai dove sei a cattone? so sul tetto del c vicino a c occhio che la finestra c'è uno non c'è più eccolo eccolo arriva in c arriva in c oggi chi arriva in c nooo mi ha fatto esecuzione ahahah ahahah vabbè dai l'ho ucciso io è easy se vado so ah no te l'ho visto proprio l'esecuzione oh io c'è il titan raga aspetta dai no pure il titan no ragazzi arrivano in b2 eh mi sembra ma lo cazzo stai a cattone di me ecco sono morto mo vaffanculo a te quando mi chiami mi hai fatto scoprire ma hai fatto maledetto mo vado a becca quello mao ce l'amo qua davanti via come te faccio uccide uno via come eccolo guarda mao attento che sono due o tre mao le fanno fuori occhio eh mao le hai uccisi tutti eh che uno solo mi sa ma 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 è uscito lì a me ma baffo mao te porto te porto un mezzo alla tana te ne porto tre te ne porto tutti a cercarli te porto un mezzo a tre e tu che fai non approfitti cioè me li lasci così non dobbiamo sto sparando il culo a cattore ahahah oh 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 ecco ti era vaffanculo io vai fammi questa ripresa vedi come lo scasso il culo a questo i cattori luo i cattori o il soldato fermo non sparare più maledetto titan su 7 mondi tu che cazzo ha tirato andiamo a P a B poi dopo te la faccio da una parte no che scuola che è i cristi non te mandiamo a muovere tu andiamo a prendere B tutti a prendere B dai no cazzo sto a sudare da nì è merda ho detto prendere B non distruggere gli uomini che sono vicino attraverso no nucleare nucleare oh ma lo cazzo sto dai da nonna uomini eh rocce ma inutato ma che cazzo è andata qui dove stanno? dove stanno? dove stanno questi gni archilli oh no oh no dove stanno i gni archilli? me ne vado me ne vado arrivo 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 iiii iiii sono scorsi da palleggiamolo palleggiamolo mette fuori iiii non l'ho detto ma no no vai 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 ok via che c'è il pilota che cazzo via 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 muzie c'è il mio poe c'è un altro fa fa da me qua quariti quali possono 222 aiutati no no capo perchea il palliccio e palluccelle fatto le palluccelle questo no no che sto pallucciando ma perchè sono un robottino del cazzo un robottino del cazzo oh oh quello non se ne va che succede ragazzi li mandiamo via nooo dietro 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 guardami guardami sono robottino del cazzo cosa sai oh guarda che robottino è sotto di te guarda sono robottino del cazzo arriva uno oh che paura già scappa già non c'è più guarda se voi non mannate via a sanavessa eh ma piartai da questo ha fatto il giro di qua ma è a pulbo non ti ha capito nessuno stupido stupido ah io ho buttato anche una bomba in bocca bravo abbiamo scassato tutto con il palleggio di quelli